Voglio far parte della cosa. Parte? Non capisco. Di quale cosa stai parlando? Di quale cosa stai parlando? La acquista cosa, il mio rapimento. In realtà mio padre e io... non stiamo passando un bel periodo. Lui non vuole coprire alcune mie spese, bla bla bla. Comunque capitate a proposito. Rex, senti, è tutto molto bello, ma noi abbiamo deciso che non facciamo niente di criminale. Sta per noi. No, ha ragione, il rapimento è annullato in realtà. No, 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 è in piedi. È annullato? No, è in piedi, ho mandato una richiesta di riscatto a mio padre. Che hai fatto? Che hai fatto? Sì, mi sembrava offensivo chiedere 500.000 dollari per me. Insomma, valgo così poco? Niente paura, ho aggiunto uno zero alla cifra. 500 milioni? Wow, sono un sacco di soldi. No, 5 milioni, ragazzi. 5 milioni. 5, sono 5.